Ciao a tutti, in questa video recensione descrivo il blocco di carta sintetica non assorbente proposto da Flying Tiger. Perché usarla? A chi serve? La prova con vari strumenti di scrittura. E attenzione, un'anticipazione, in taluni casi questa carta può risultare potenzialmente dannosa. Quindi vediamo in dettaglio più avanti nel video perché può effettivamente provocare dei danni. Da alcuni anni ormai ci sono proposte sul mercato relative a carte speciali sintetiche non assorbenti, molto resistenti anche allo strappo, all'acqua ed altri agenti, utilizzabili con ogni clima, anche sotto la pioggia abbattente. A volte le si chiama anche carta pietra per indicare l'origine minerale con l'aggiunta di polimeri sintetici, praticamente una sorta di plastica su cui però possiamo scrivere agevolmente. Quindi appare come carta ma sostanzialmente è una specie di plastica, poi lo vedremo più avanti. In questa recensione mi riferisco specificatamente al blocco preso da Tiger. È un blocco collato, quindi una rilegatura molto semplice, da 25 fogli in formato A5. Qui ho segnato per ricordarmi, insomma perché comunque l'ho preso un po' di tempo addietro. La descrizione dice, blocco da disegno sintetico non assorbente, carta sintetica bianca, liscia e luminosa che accentua colori ed effetti. Ma molte considerazioni fatte per questa carta valgono anche per altre carte di tale tipologia. Sostanzialmente le gocce di acqua e altri liquidi su di essa scivolano via e non penetrano all'interno. Questo è proprio il concetto di non assorbenza. Nell'immagine che viene mostrata in questo momento potete vedere la prova che ho effettuato con diversi strumenti, in particolare delle penne stilografiche di varia tipologia e utilizzando anche vari inchiostri. Comunque inchiostri di varie marche, penne con vari pennini, grandi, piccoli, per verificare se effettivamente la carta assorbe l'inchiostro non lo assorbe, se l'inchiostro passa dall'altra parte, se c'è anche del ghosting, quindi se si vide anche dall'altra parte. E poi più sotto ci sono anche delle normali penne a sfera e ho fatto anche delle prove per verificare in quanto tempo l'inchiostro non asciugandosi macchia ed effettivamente devo rilevare che i tempi sono lunghissimi, ben diversi da qualunque altra carta. Normalmente una penna stilografica può asciugare in 5-10 secondi, a volte arriva anche a 20 secondi, qualcosa del genere già inizia a dare fastidio specialmente se si è mancini. Qui invece il tempo di asciugatura lo si misura addirittura in minuti. Dopo mezz'ora alcuni inchiostri tendevano comunque a macchiare il foglio se ci si passava sopra la mano. E non solo per le penne stilografiche ma anche le penne a sfera dopo una trentina di secondi, mezzo minuto, ancora macchiavano. Quindi questo è un aspetto indubbiamente importante da considerare perché è una carta che non assorbendo l'inchiostro si asciuga in tempi enormi, davvero davvero elevati. Ora però vediamo lo stesso foglio con un trattamento, dopo un trattamento che ho effettuato, questa è un'altra prova per un foglio con dei pennarelli. Questi fogli sono stati immersi nell'acqua e tenuti lì un'oretta insomma dentro una bacinella con dell'acqua e poi stesi al sole, stesi al sole proprio in uno stendino per gli abiti e lasciate qualche ora sotto il sole cocente per verificare come si comporta la carta. La carta effettivamente non si è minimamente rovinata però come vedete gli inchiostri maggiormente idrosolubili sono andati quasi via completamente. Mentre questo inchiostro che è considerato bulletproof, sicuramente waterproof, insomma è un inchiostro resistente a tanti agenti, sia all'acqua ma anche ai solventi, devo dire che è rimasto perfetto anche dopo il bagno e dopo la stesura, l'esposizione prolungata al sole. Ovviamente con le penna sfera problemi non ci sono stati, anche i pennarelli in tal senso si sono quasi comportati bene. Lo spiumaggio un pochino c'è perché comunque se non assorbe l'inchiostro da qualche parte va e tende naturalmente a spandersi in superficie. Anche i pennarelli sono andati benino tranne questo qui che è una brush pen cinese, insomma, non mi ricordo, comunque è capitato a questo pennarello che l'inchiostro si è sparso sulla superficie in maniera esagerata. Vediamo il retro, effettivamente non c'è il passaggio di nulla, nessun inchiostro è passato dall'altra parte ed è, diciamo, da questo punto di vista un buon risultato che rispecchia quello che poi viene dichiarato per questa carta, una carta che non assorbe l'inchiostro. E anche il ghosting devo dire che è limitato, quindi la visione in trasparenza sull'altro lato del foglio non c'è, in teoria si può scrivere anche sull'altro lato, anche se forse questa è una carta che non viene impiegata normalmente per scrivere grandi e lunghi documenti. Adesso vediamo un pochettino anche un altro foglio, questo qui ho provato diverse penna sfera o gel, stacchiamo, vediamo che è un blocco collato, qui c'è una prova con, qui sopra sono delle normalissime penna sfera con inchiostro viscosa base oleosa, la Bic, la Pelican Super Soft con inchiostro ibrido, la Uni Jetstream, qui sotto invece più avanti le penne gel, la Pilot, la Frition che è quella cancellabile, la G2, la Muji gel e qui penna a pennarello la Paper Mate, la Stabilo Point che è un fineliner e la Pilot V5 che è una roller. Ah, qui sotto anche la matita. Ho voluto verificare quanto macchiassero questi inchiostri. Allora la Bic rimaneva dopo 1 o 2 minuti, insomma in un tempo variabile tra 1 o 2 minuti la Bic rilascia per i inchiostri un pochettino ammacchiato passandoci il dito sopra e le gel, la Pilot G2 in particolare ammacchiato e anche la Muji. Le altre devo dire che si sono comportate abbastanza bene, forse giusto la Paper Mate e la Roller. Comunque sicuramente le Ball Point sono le penne ideali, le penne proprio naturali per l'impiego con questa carta, non solo perché non macchiano ma anche perché risultano essere maggiormente scorrevoli. Questa carta è sì molto liscia ma ha come una consistenza morbida, quasi gommose in superficie. Le gel scrivono, indubbiamente scrivono anche abbastanza bene, ma c'è questo senso di resistenza al trascinamento della punta. Le altre penne vanno abbastanza bene e le Ball Point invece sono perfette, scorrono veramente come se fossero sul velluto. Però adesso vorrei parlarvi di un problema, e qui mostro anche un'immagine per verificare questo aspetto, un problema più grande che riguarda questa carta ed è quella potenzialmente dannosa che ho citato all'inizio. Essendo dei fogli in formato A5 ho ben pensato, dal momento che la mia stampante permette di stampare i fogli in questo formato, ristringo il cassetto e dico vediamo un pochettino come si comporta anche con una stampante laser. Ecco, non l'avessi mai fatto. Il problema è che la stampante laser concentra molto calore in un punto per liquifare, per squagliare la polvere del toner e poi applicarla sul tamburo e quindi sulla carta. Ma essendo una carta sintetica, praticamente proprio plastica, questo calore l'ha deformata, l'ha deformata a tal punto che si è accartocciata ed è rimasta bloccata all'interno della stampante. mi ha costretto a, innanzitutto la preoccupazione enorme, dico ecco qui ho rotto la stampante, mi ha costretto ad aprire tutto, a togliere il tamburo, a togliere il toner e a smontare anche un altro pezzo perché comunque era rimasta proprio incastrata all'interno. Fortunatamente pian pianino sono riuscito a toglierla e sembra che la stampante non abbia subito problemi, però mi ha fatto sicuramente prendere un bello spavento, avevo paura di dover cambiare la stampante. Ora, sulla getta d'inchiostro potrebbe dare problemi o no, non ha il calore, non genera quel calore che invece genera una stampante laser, però c'è anche da dire che l'inchiostro se non viene immediatamente assorbito dalla carta potrebbe poi riversarsi sul tamburo, sui cilindri che servono a trascinare la stessa carta, quindi comunque avendo passato questa esperienza negativa con la laser non mi sono minimamente azzardato a utilizzarla con la getta d'inchiostro, quindi diciamo nella stampante assolutamente no. Ed ora delle considerazioni generali. A chi può interessare un prodotto come questo? Beh, pensandoci può servire a chi scrive luoghi con clima estremo, molto umidi, addirittura sotto la pioggia, ricercatori in ambienti artici, grotte, foreste tropicali, ma anche boy scout, appassionati di escursioni, sopravvivenza, attività quali il geocaching o il birdwatching, insomma tutti gli ambienti in cui c'è il rischio che la carta si bagni. Magari però per tale applicazione forse è meglio usare dei blocchi a spirale maggiormente pratici, qui sotto nella box di informazioni del video indico anche un link per il loro acquisto. Meglio ancora poi se li utilizzate in combinazione con penne speciali per usi estremi. A tal proposito in altri video di questo stesso canale trovate la recensione della penna Unipower Tank e della Tombow Airpress e a breve anche della penna dell'astronauta Fisher Space Pen che ripeto sono gli strumenti forse perfetti, ideali da usare in combinazione con queste tipologie di carte, oltre che funzionare su qualunque altra carta ovviamente. Ad ogni modo a meno che non vi troviate davvero in situazioni estreme io non consiglierei di usare una carta sintetica. C'è il discorso ecologia, qualcuno potrebbe dire, beh di sicuro non vengono abbattuti alberi per la sua produzione ma essendo un derivato plastico non lo definirei affatto ecologico. Forse non è neanche il caso di chiamarla carta che per definizione è igroscopica quindi tende ad assorbire l'acqua, non è di origine vegetale, non c'è cellulosa di legno, lino, canapa, gelso, bambù, papiro, stracci di cotone o altre fibre, non è neanche di origine animale come la pergamena, è insomma sintetica, completamente sintetica, chimica, non saprei ma penso forse con derivati del petrolio. In conclusione io spero di aver fatto cosa gradita descrivendo e provando tale prodotto, poi a voi le considerazioni finali sul fatto che possa fare a caso vostro se rispecchia le vostre specifiche esigenze. Vi ricordo se pensate che i miei video sono interessanti potete iscrivervi al canale e rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni. A questo punto vi saluto e vi ringrazio per la visione. Ciao a tutti!